Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. La Guardia di Finanza di Taranto ha confiscato nella mattinata di oggi beni per circa 2 milioni e mezzo di euro. Il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Lecce rappresenta l'epilogo di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce e Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di un tarantino ritenuto socialmente pericoloso. L'uomo è stato condannato in via definitiva per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, detenzione legale di armi clandestine, ricettazione e associazione di stampo mafioso. Dalle indagini infatti sarebbe emerso che il tarantino avrebbe ricoperto un ruolo di rilievo all'interno dell'associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita, dedita all'usura, alle rapine, al contrabbando di tabacchi e di sostanze stupefacenti e caratterizzata dal controllo sociale del territorio e delle attività economiche presenti. Gli introiti ricavati dalle attività illecite sarebbero stati impiegati dall'uomo per acquisire beni e gestire imprese, queste ultime intestate e i suoi più stretti familiari, il cui valore è risultato nettamente superiore rispetto a quanto dichiarato al fisco. Tra i beni confiscati oggi rientrano una villa con piscina situata a Taranto, un'autovettura, significative disponibilità finanziarie e i compendi aziendali di due avviate imprese tarantine attive nel settore della ristorazione e della vendita di prodotti ittici freschi. Quanto confiscato sarà definitivamente affidato alla gestione dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. E' stato arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino di Manduria responsabile dei reati di sequestro di persona, violenza privata aggravata e danneggiamento. A seguito della segnalazione di una violenta lite familiare pervenuta al commissariato di Manduria, i poliziotti hanno incontrato una donna visibilmente provata che dopo le prime cure fornite dai sanitari ha avuto la forza di denunciare l'uomo in sua compagnia per le violenze subite. Assistita e ascoltata dal personale specializzato della Polizia di Stato che ha attivato le procedure previste dal Codice Rosso, la vittima ha trovato la forza di raccontare la relazione avuta con l'uomo, iniziata la scorsa estate e finita solo dopo qualche settimana a causa dei suoi atteggiamenti ossessivi e violenti. Nel corso della lunga e delicata denuncia, i poliziotti hanno appreso che l'uomo non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione e aveva iniziato ad assumere atteggiamenti persecutori, tanto da modificare lo stile di vita normale della donna. L'ultimo episodio, quando dopo averla invitata nel suo appartamento per un chiarimento, dopo una discussione nata per i soliti futili motivi, l'uomo l'avrebbe percossa violentemente, costringendola a restare in casa contro la sua volontà. In preda a una vera e propria crisi d'ira, le avrebbe anche rotto il cellulare con il preciso intento di impedirle di chiedere aiuto. Sulla scorta di quanto emerso, la Procura della Repubblica di Taranto ha chiesto e ottenuto l'applicazione della misura cautelare eseguita dal commissariato. L'uomo si trova ora nel carcere di Taranto, in attesa di sentenza definitiva. È stato arrestato dai carabinieri di Massafra un trentenne del posto accusato di rapina e sette furti aggravati, che avrebbe commesso tra agosto 2022 e giugno 2023 nel comune di residenza. Dalle indagini sarebbe emersa la totale spregiudicatezza del trentenne, che avrebbe imperversato con allarmante frequenza in diversi esercizi commerciali massafresi, creando un clima di preoccupazione tra i commercianti della zona. L'uomo avrebbe agito addirittura all'interno di istituti scolastici in pieno giorno e persino in un santuario, nonostante pregressi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. E semplificativo del modus operandi dell'uomo è stato il tentato furto di una TV avvenuto all'interno di una scuola, durante il quale il trentenne, per sfuggire alla cattura, avrebbe scagliato il pesante oggetto contro un addetto alla vigilanza. Fondamentale al fine delle indagini è stata la collaborazione degli esercenti del posto, che non hanno esitato a denunciare. L'uomo si trova al momento agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di sentenza definitiva. Si è svolta questa mattina presso gli uffici direzionali di Chimambiente l'Assemblea Sindacale dei Lavoratori dalle ore 9.30 alle ore 14. All'ordine del giorno la crisi di Chimambiente e la procedura di licenziamento collettivo di 57 lavoratori. Non ha infatti sortito alcun effetto positivo la riunione che si è svolta lo scorso 6 ottobre a Palazzo di Città con il Sindaco di Talanto e il Direttore Generale del Comune. Ai rappresentanti sindacali in quell'occasione era stato infatti comunicato che la situazione economica dell'azienda è drammatica. Sì, questo è l'ultimo del ciclo di assemblee che abbiamo indetto dopo il sit-in sotto Palazzo di Città la scorsa settimana. Stiamo socializzando con i lavoratori quella che è la situazione. Domani alle 10 ci sarà il primo incontro per l'esame congiunto della procedura di licenziamento collettivo di queste 57 unità. Sostanzialmente non è cambiato nulla, anzi forse qualcosa è cambiato ma in peggio perché nella riunione di venerdì pomeriggio il Sindaco ci ha detto che l'alternativa ai licenziamenti è il fallimento dell'azienda e quindi lui ritiene che sui licenziamenti non fa nessun passo indietro. Partita questa mattina anche a Taranto la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale che si protrarrà nelle prossime settimane grazie alla collaborazione con i medici di base e i pediatri di libera scelta. Per dare l'esempio questa mattina si sono sottoposti alla vaccinazione il direttore generale dell'Asla di Taranto Vito Gregorio Colacicco, il direttore sanitario Aldo Minerba, il responsabile dello spesa al Cosimo Scarnera e il dottor Cosimo Nume, presidente dell'ordine dei medici chirurghi o dontoiatri della provincia di Taranto. Obiettivo principale del vaccino è prevenire le forme gravi e complicate di influenza nonché ridurre la mortalità prematura nei gruppi ad aumentato rischio di malattia grave. Secondo le indicazioni del Ministero, il vaccino antinfluenzale gratuito è fortemente raccomandato per chi ha età superiore a 65 anni, donne in gravidanza nel periodo postpartum, soggetti fragili dai sei mesi in su e loro familiari, personale sanitario e addetti ai pubblici servizi. La Regione Puglia ha acquistato circa un milione di dosi di vaccino, di cui 130.000 destinate alla nostra Asla. Insieme al vaccino antinfluenzale sarà possibile richiedere anche la somministrazione della dose anti-Covid con l'utilizzo delle nuove formulazioni. Sembra non aver fine il caldo estivo che sta caratterizzando l'inizio di questo autunno 2023. L'anticiclone africano continua a garantire tempo stabile in tutta Italia con cielo prevalentemente sereno e temperature in aumento. Ma secondo Antonio Sanò, fondatore del Meteo.it, la prossima settimana potrebbe segnare il cambio di passo decisivo. Da lunedì 16 ottobre, infatti, l'Italia potrebbe avere a che fare con una pericolosa ondata di maltempo. Instabili correnti atlantiche, infatti, cominceranno a prendere più forza rispetto all'anticiclone africano. Le temperature potrebbero scendere addirittura di 10 gradi attestandosi a 5-7 gradi in meno rispetto alla media prevista per il periodo. Il maltempo inizialmente interesserà soprattutto il nord e il centro Italia. Temperature ancora stabili e miti invece al sud. Presentata questa mattina a Taranto la non-edizione di Armonia in bianco e nero Arti a Confronto, la rassegna patrocinata dal Comune e dalla provincia di Taranto e dalla Regione Puglia, che si articolerà nei mesi di ottobre e novembre in 5 concerti, tutti con ingresso gratuito, che si terranno nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città. I concerti tenuti da musicisti professionisti saranno preceduti da un open concert affidato a giovani studenti, nonché abbinati ad eventi collaterali, al fine di offrire al pubblico un più ampio ventaglio di esperienze culturali. È una rassegna bella, bella per tanti motivi. Intanto perché c'è tanta musica, tanta musica di qualità, e poi perché coinvolge i giovani. Questo è un lavoro che stiamo facendo da un bel po' di tempo. Io in prima persona mi sto adoperando tanto per promuovere la musica e la bellezza, soprattutto tra i più giovani. C'è il coinvolgimento delle scuole, del nostro conservatorio, anche delle scuole della provincia. Non posso che complimentarmi con l'Associazione Armonia in bianco e nero per questa edizione che sottolinea un aspetto molto importante, che è quello della inclusione. Questa nona rassegna di Armonia in bianco e nero è davvero una rassegna molto ricca. Cinque appuntamenti che parleranno non soltanto di musica, ma ci faranno provare le emozioni di guardare le varie arti. La prossima partita del Taranto Football Club 1927 in programma per il 15 ottobre contro il Crotone sarà disputata a porte chiuse. Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, firmerà l'ordinanza che lo consentirà, superando le difficoltà poste dalla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L'organismo prefettizio, infatti, ha subordinato la concessione dell'agibilità parziale dello stadio Erasmo Iacovone al completamento anche dei lavori di messa in sicurezza della Curva Sud. Interventi che sono già in corso fa sapere l'amministrazione comunale, ma che non potevano essere in alcun modo terminati in tempo, a causa delle preliminari e indispensabili operazioni di bonifica e dei tempi dettati dalla Procura per l'accesso dei tecnici e delle ditte. Tutti gli altri interventi di bypass degli impianti, invece, sono stati completati secondo il cronoprogramma previsto. La Commissione, ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Cosimo Ciraci, non ha concesso ragibilità parziale, come l'avevamo richiesta, proprio per escludere la Curva Sud sequestrata. Contavamo che quanto fatto con i bypass fosse sufficiente, ma la Commissione ha legittimamente ritenuto di procedere con estrema cautela. Siamo dispiaciuti per quest'ulteriore ritardo e confermiamo la nostra vicinanza a tifosi e società. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto. Al prossimo aggiornamento.